Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto il solo money glitch facile facile che alcuni dicono che non funziona però vi posso garantire che funziona, tanto è vero che alla fine del video vi farò vedere data e ora in cui ho girato il glitch conferma che il glitch funziona, per fare questo glitch abbiamo bisogno di una base operativa, di un bunker con all'interno il com e all'interno del com dovremo avere l'auto che vogliamo duplicare ragazzi quindi a questo punto tiriamo fuori l'auto che vogliamo duplicare dal nostro centro operativo mobile e la lasciamo qui ragazzi io qui mi vado a registrare come sicuro serve per chiamare l'elicottero però vedete voi insomma come spostarvi da una parte all'altra allora innanzitutto ragazzi vi ricordo i due contest in descrizione del video il mio è quello di dark glitch, i contest quindi andate ad aprire la descrizione del video e troverete i contest dovete lasciare, dovete avere dei requisiti ragazzi non dovete semplicemente mettere partecipo fate attenzione, aprite tutte e due i video, non scrivete solo partecipo perché se non avete i requisiti giusti ragazzi non potrete vincere questi contest un contest c'è in palio una playstation 3 montata, un account per ps4 e un diciamo come cazzo si chiama una shark card ragazzi nell'altro contest invece c'è un account con 800 milioni per ps4 ragazzi quindi fate bene attenzione a tutto ciò che si dice in quei due video perché poi altrimenti se sarete estratti e non avete il requisito ve la viate in del culo e sempre in descrizione ragazzi vi ricordo tutti i miei contatti vi ricordo il mio gruppo telegram ragazzi aiutateci a crescere nel gruppo telegram cresciamo insieme nel gruppo telegram potete chiedere aiuto potete semplicemente cazzeggiare l'importante è rispettare le regole non ci sono grandi regole da rispettare però comunque sia prima di entrare nel gruppo date una letta alle regole in maniera tale da non essere diciamo bannati o altro insomma l'importante è il rispetto come ho già detto questo gruppo è per xbox one e ps4 anche se qualcuno vuole entrare per pc va bene diciamo che il gruppo tratta tendenzialmente gta 5 online quindi tutto ciò che riguarda glitch ci aiutiamo molto tra console insomma quindi diciamo entrate in questo gruppo e spero che vi troverete bene quindi a questo punto ragazzi andiamo nella nostra base operativa dove dobbiamo avere una bmx pigiamo x per pedalare e andremo ovviamente nel dormitorio ragazzi come sempre allora questo glitch alcune volte vi lascia le auto senza modifiche io però ho notato che o cambiando un qualcosa allo santos custom dopo che si è duplicato oppure facendo bene questo bug che sto per fare io cioè freccia destra e acceleratore facendo bene questo bug ragazzi se non vi spawne in culo al mondo e vi trovate così di solito non vi toglie le modifiche però comunque sì anche se vi toglie le modifiche le auto le vendete intorno a 550 mila o qualcosa del genere che non sono soldi da buttare via ragazzi qualcuno si lamenta perché gli toglie le modifiche purtroppo è il glitch il bug è questo e non si può fare altrimenti Dark Glitch ha pubblicato una live dove diceva di come risolvere questo problema delle modifiche trovate il canale di Dark Glitch tra i miei canali amici quindi cercate la live e guardatela io ragazzi non ho avuto occasione di vederla questa live perché non ci ho avuto tempo comunque però voi andate a vederla e magari risolvete anche il problema delle modifiche quindi detto questo ritorniamo nel nostro bunker come avete visto e una volta che saremo entrati nel nostro bunker andremo a completare il glitch ragazzi quindi per completare il glitch ci basterà semplicemente salire sulla nostra LG allora io qui ragazzi ho una targa personalizzata ma non serve assolutamente la targa personalizzata perché adesso vedrete che l'auto cambierà targa automaticamente qui mi dà una targa invisibile perché l'auto che ho utilizzato per fare il bug della BMX ovviamente era un'auto con targa invisibile e quindi automaticamente mi dà la targa invisibile ragazzi però comunque sia come ho già detto non vi servono targhe personalizzate perché le targhe cambieranno ogni volta e quindi non avete nessun problema ma per quanto riguarda diciamo le targhe quindi anche chi non ha targhe personalizzate può fare tranquillamente questo glitch per ripetere il glitch lasceremo di nuovo la nostra auto qui e andremo a ripetere il glitch io in questo caso non andrò a ripetere il glitch vado semplicemente a farvi vedere l'auto che è nella base operativa perché qualche scettico ha detto che non funziona qualcuno ha detto che insomma cazzate varie e qui sta nascendo la sindrome del pacciato cosa che finora sembra che vada tutto ragazzi tutti questi glitch badano e quindi approfittiamo ancora per fare questi glitch nel tragitto vi ricordo ragazzi per restare sempre aggiornati su quando un glitch viene pacciato e tutto il resto innanzitutto leggete i titoli perché io lo scrivo sempre se un glitch è pacciato o meno anche se questa volta mi costerà parecchio scriverlo perché ci sono molti video sul canale a cui dovrò scrivere pacciato però per essere aggiornati in tempo reale c'è il mio gruppo telegram e il mio canale telegram trovate i link in descrizione oppure nei lower tier che stanno passando ci sono tutti i miei contatti lower tier ragazzi è quella finestrella laterale che compare e poi scompare dove c'è scritto il mio contatto non so adesso è appena passato twitter però ci sono anche altri contatti dico il mio canale telegram manca semplicemente il gruppo telegram che provvederò al più presto a mettere però comunque sia tutti i contatti come ho già detto li trovate in descrizione del video trovate il mio sponsor se avete bisogno di acquistare non so joystick cuffie qualunque cosa voi abbiate bisogno di acquistare contattate il mio sponsor con hashtag maximilk ragazzi e il mio sponsor vi farà uno sconto se siete i miei iscritti quindi non ho nient'altro da aggiungere ragazzi solamente che farvi vedere la data andiamo a vedere la data in cui ho girato il glitch e l'ora come state vedendo ragazzi sono le 14.52 di oggi il glitch funziona perfettamente non ho veramente nient'altro da aggiungere questa è l'auto che era nel bunker insomma detto questo un saluto a tutti al prossimo video NO MERCY